Pietro Garzaro, come hai visto questa partita? Penso che i primi 15-20 minuti, è stata una partita molto tirata da entrambi i lati perché comunque a livello di difensivo e attacco entrambi hanno fatto bene, anche noi. Poi ci siamo passati un po' ad andare, un po' l'abitraggio non voglio mettere in mano perché comunque da entrambi i lati non è stato giusto in entrambi i lati. Da warning, blu, vabbè lasciamo stare, è un altro discorso. Per il resto credo che comunque il Barcelona ha giocato bene, perché comunque dai nostri errori ha sfruttato bene. Quindi hanno quell'esperienza che anche per i singoli è molto importante, dobbiamo imparare a prendere. Per il resto comunque credo che abbiamo molto da lavorare personalmente noi però comunque le carte per fare un bel campionato ci sono. Quali sono gli obiettivi per il Montecchio in questa Coppa Italia? La Coppa Italia, come anche la 2 di Montecchio in questo caso, è dedicato a far crescere i giovani, più o meno di tutto. C'è qualcuno che ha più o meno esperienza, faccio ad esempio anche Matteo Pace, come anche Matteo Dallavalle, come giocatori che hanno un po' più di esperienza. Il nostro obiettivo è quello in Coppa Italia di prepararci a modo per quello che sarà il campionato. Perché comunque anche nelle giocate facciamo bene, le partite facciamo bene, ci manca quel bri che devo ancora prendere. L'obiettivo è far bene in campionato, dimostrare la nostra, perché la seconda squadra deve essere quello l'obiettivo.